Si svolta in Piazza Martiri della Libertà la cerimonia terramana per il solenne anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, importante evento annuale alla quale hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia e tanti cittadini. L'importante momento celebrativo è stato utile anche per portare a conoscenza la cittadinanza del bilancio annuale degli interventi svolti sul territorio. I dati sono quanto mai positivi e rassicuranti, è dichiarato il comandante provinciale Saccone. Abbiamo migliorato l'attività repressiva di un ulteriore 19% rispetto al calo già registrato nel 2023. Tra le operazioni più significative si elenca la battaglia ai furti in casa con la conseguente diminuzione delle frodi agli anziani. Oltre a un costante servizio di informazione per le giovani generazioni sui danni del cyberbullismo e violenza di genere, è stata inoltre intensificata l'attività di prevenzione con le pattuglie H24 in modo che la popolazione possa avvertire un sempre maggiore senso di sicurezza in sinergia con gli altri organi di polizia.